Tu non devi andare in tv, basta con dichiarazioni che danneggiano il partito e ci fanno calare nei consensi. Così Silvio Berlusconi si sarebbe rivolto con tono molto alterato contro Raffaele Fitto che aveva chiesto di parlare nel corso del comitato di presidenza. Il Cavaliere, che ha sempre confuso il partito con l'azienda, lo avrebbe interrotto più volte lasciando anche la scrivania e dirigendosi verso lo scranno dell'eurodeputato pugliese che rivendicava il fatto di porre questioni politiche sul modo di fare opposizione, una opposizione più marcata e decisa. E Fitto, si sa, non è mai stato una colomba di Forza Italia ma l'esponente di un'ala più radicale, quella dei cosiddetti duri e puri. Certo, l'ex ministro che fino a quando è spuntato il toti della situazione sembrava destinato peraltro a raccogliere l'eredità del leader, ha dovuto fare i conti con i poteri forti degli azzurri. Fitto in Puglia lo conosciamo bene e sappiamo che negli ultimi anni non ne ha imbroccata una giusta, circondandosi di uomini ma soprattutto di piccoli uomini, graziati da una legge elettorale che consente loro di riscaldare gli scranni del Parlamento. Tornando ai poteri forti sappiamo che sono concentrati a Milano e che all'indomani delle europee, dove Fitto ha potuto dire la sua forte del consenso elettorale, qualcuno si è preoccupato di non spostare il baricentro di Forza Italia al sud, dove paradossalmente è proprio Fitto a conquistare punti in percentuali e a trascinare in alto il partito azienda di Forza Italia. Ma Fitto, da buon ex democristiano, non è come Fini, il quale seppe sfidare a viso aperto il Cavaliere e seppe profeticamente prevedere ciò che sarebbe accaduto qualche anno più tardi. La storia del nuovo centrodestra e di Alfano non hanno insegnato nulla al Cavaliere, forse votato all'autodistruzione. Tornando a ieri la tensione in salita alle stelle, quando l'ex premier si sarebbe rivolto a Fitto, ricordandogli proprio di essere figlio di un vecchio democristiano. Fitto a questo punto avrebbe dovuto replicare, dicendo a Berlusconi che egli stesso era invece figlioccio di Bettino Craxi. Avrebbe non solo pareggiato il conto, ma avrebbe fatto comprendere meglio che Forza Italia, nel suo DNA, ha molto di democristiano e molto di socialista, dal punto di vista dei cromosomi. Le parole del Cavaliere, ormai ex, sono state parole pesanti a cui l'ex ministro non ha replicato, ma ha solo smesso di parlare, limitandosi a dire «Io finisco qui, che è meglio». Fitto in questa occasione ha preferito tacere, ma tutti sanno che l'euro parlamentare di maglie e certe cose se le lega al dito, e prima o poi la vendetta politica arriverà servita sul piatto d'argento. 9 milioni di persone vogliono che Forza Italia sia più alternativa e all'opposizione, in particolare sulle materie fiscali e sulle tasse. Se riusciremo a essere alternativi, tante persone torneranno a votare per noi. Questo il commento di Daniele Capezzone, lasciando Palazzo Grazioli. Grazie.